E' che tutta la città, se non tutto il paese, vive il 7 dicembre alla scala. Manca moltissimo di razionalità, ma è una cosa molto viva. Alla scala c'è qualcosa di speciale, effettivamente. Basta vedere ogni volta che torno alla scala e vedo i cantanti, l'emozione dei cantanti quando arrivano in palcoscenico. Tutte le volte che ritorno in palcoscenico, in questo teatro c'è un'energia e c'è veramente una magia speciale. Cioè la bellezza del teatro è unica. La loro presenza insieme alla Begum indica che si è voluto mettere in tavola anche le pedine della grande mondanità internazionale, schierando all'appello tutti i nomi dell'almanacco di Gotham. La catalizzatrice della misteriosa combinazione chimica è certamente Maria Callas. La storia del teatro è un'energia e un'energia e un'energia e un'energia e un'energia.